Emmaus, libreria religiosa e oggettistica sacra. Paolo, siamo entrati nel Sancta Santorum, all'interno proprio del tuo studio, nel cuore della tua casa, del tuo studio. Facciamo un po' un bilancio, anche se i bilanci si fanno dopo tante cose, questo è un bilancio abbastanza breve ma corposo, perché sono stati tre anni, tre stagioni, in effetti, che ti hanno visto impegnato dietro le quinte, più che altro, del Teatro Flavio Vespasiano, con una, ovviamente, tutta la tua storia artistica che ti ha aiutato a mettere insieme tante cose, con una qualifica, però, che è meglio che ci dici te, perché io avrei detto direttore artistico, ma non è così. No, mi viene da ridere perché dici, sai, quando dici la parola bilancio, no? Il bilancio io penso che si faccia a bara chiusa, cioè, voglio dire, sono altri che lo fanno, il bilancio, perché diranno qualche cosa su, come posso dire, l'inessenzialità del nostro passaggio, almeno del mio, su questa terra. Per quanto mi riguarda, no, hai citato un'esperienza splendida che si è appena conclusa e che ricordo ormai, posso dire, con grande piacere e senza nessun tipo di, come posso dire, vena polemica o rimpianto, nel senso che è stata un'opportunità bella, che per me è stata ovviamente una parentesi, perché io non sono un organizzatore, sono uno che fa questo mestiere da 25 anni, insomma. Ci si agita in scena, come diceva Shakespeare, la vita non è che un'ora errante, un guitto che si agita sulla scena per un'ora, per poi tacere per l'eternità. Ecco, in attesa uno si agita e ce la spassiamo nel frattempo. Prima dell'eternità di attesa, intanto, se non vogliamo fare un bilancio, almeno facciamo un racconto. No, il racconto è bellissimo, perché praticamente è una cosa nata, vorrei dire, quasi per caso, nel senso che io qui mi trovai con una cosa che ha una storia a sé, a girare in questa città un film da me scritto e interpretato che si chiamava Il disordine del cuore, che adesso poi è stato proiettato qui a Rieti e che è il primo film, perché poi ce n'è stato un altro di Massimo Vermuller, completamente girato ed ambientato a Rieti. Quindi si dice nel racconto proprio che la città è Rieti e lo giravamo qui nei primi del 2013, nel 2012, però io avevo già fatto gli incontri con le istituzioni per vedere, per guardarmi intorno, per vedere dove girare, i sopralluoghi e quindi in quel momento proprio di trapasso tra un'amministrazione e l'altra c'era questo fermento di rinnovamento, di idee nuove, di cose nuove, mi propose, conobbi il sindaco in quell'occasione, il sindaco Simone Pietrangeli e l'assessore Diego Di Paolo, che mi proposero di fare questa cosa qui, che era praticamente fare il coordinatore artistico per la stagione di prosa, che è una parola lunga, altisonante, si trattava di dare una mano a vedere gli spettacoli, nel muovere il teatro e sono stati tre anni, veramente una cavalcata divertentissima, meravigliosa. Io approfitto per ringraziare sia il sindaco Simone Pietrangeli che l'allora assessore, non ho detto prima, l'allora assessore Diego Di Paolo e ringraziarli vivamente, perché si sono effettivamente, il sindaco si è effettivamente impegnato, ha creduto e crede nel rilancio della città attraverso il linguaggio artistico e nelle sue varie forme e l'assessore Di Paolo con il quale abbiamo lavorato a stretto contatto per questi tre anni e che è stato, credo io, un valido supporto per la sua azione e comunque lui è stato sempre un sostegno per quello che riguardava questa piccola attività mia di consigliere, per quanto riguardava il teatro. Senti, un'esperienza che è stata in quel momento nuova anche per te? Molto nuova anche per me, perché io non avevo mai diretto un teatro, cioè mi ero mosso, poi tra l'altro io ho fatto anche degli studi, sono avvocato, laureato in legge, avvocato, con una tesi sulla rappresentazione teatrale, quindi sono anche un po' preparato per quanto riguarda determinati meccanismi del dietro le quinte, però non l'ho mai fatto in realtà, non sono un organizzatore. Però quella era stata l'occasione, nasceva da una scommessa, è il tentativo di rinnovare dei linguaggi teatrali, rinnovare la penetrazione che può avere il teatro, il mezzo teatrale come mezzo espressivo artistico nei confronti di un pubblico, di una città, che tra l'altro, io qui ci tengo a dirlo, è orgogliosissima del suo teatro. Io credo che il vero simbolo di questa città sia un po' il suo teatro, perché tutti quanti ci passano come spettatori, come attori dialettali, come attori non professionisti, non mi viene la parola, attori dialettanti, insomma, amatoriali, ecco, che è un termine bellissimo, io trovo che sia un termine bellissimo, perché l'amatorialità, che certe volte viene utilizzata in modo dispregiativo, diciamo, sei un amatoriale. No, in realtà amatoriale racchiude in sé la parola amore, cioè amore per quello che fai, quindi tu smetti di fare il tuo lavoro perché con amore vai a fare un mestiere che forse non è il tuo, ma che comunque tu ti approcci a un mezzo di espressione. Esprimi te stesso e cerchi di dare un senso, vorrei citare Edoardo, lo sforzo disperato che compie l'uomo per dare la vita a un qualunque significato è teatro, e quindi in un certo senso l'amatore è una grande ricchezza anche di questo teatro, perché lo tiene vivo, lo tiene accessibile anche a tanta gente che magari non andrebbe a teatro normalmente. Si trattava di, non voglio dire cambiare qualcosa, voglio dire, non mi piace parlare del prima, del dopo, non voglio farlo, voglio dire quello che è stata l'espressione era appunto cambiare un approccio sia dell'amministrazione, sia del teatro stesso, sia dei cittadini nei confronti del teatro, adattandolo a quello che è lo spirito dei tempi in un certo senso, perché ci tengo a dire che comunque il teatro ha sempre lavorato molto, ha sempre ospitato cose di alto livello, è sempre stato vivo, adesso si trattava di renderlo vivo e anche più vitale rispetto a quello che erano lo spirito dei tempi in armonia, quindi si è trattato di armonizzare, tra l'altro con il fondamentale aiuto della TCL che ha un rapporto trentennale che ancora continua con il Comune di Rieti e il Teatro Flavio Vespasiano e che è stato un supporto ancora valido perché ha subito colto questo tipo di spirito nuovo che si è concretizzato in una serie di cose. Insomma, nella prima conferenza stampa presentammo quella che era una novità di repertorio, c'erano degli amici che sono stati un grosso supporto, voglio citare prima fra tutti Alessandro Gasman che è stato qui tutte e tre le stagioni che mi hanno visto implicato in un certo modo, sia come attore sia come regista, culminando in una cosa che poi diremmo dopo, che è stato forse uno dei momenti, senz'altro, ma il momento più alto della stagione. 24 novembre 2013, Alessandro Gasman nel camerino del Teatro Flavio Vespasiano in procinto di andare in scena per la prima replica della ripresa del secondo anno del Riccardo III. Un saluto a tutti i rietini e in particolare a coloro che frequentano il Teatro Vespasiano, ridato alla cittadinanza ma soprattutto vivo, con una programmazione che mi piace e dove torno molto volentieri. Riprendiamo proprio da qui, quest'anno la nostra tournée. In realtà questa sera è la nostra cinquantottesima replica, ma la prima della nuova stagione, come giustamente hai detto, e abbiamo veramente voglia di riprendere questo viaggio che così tante soddisfazioni ci ha dato. Voglio ancora fare i miei complimenti a Paolo Fosso, all'assessore della cultura del Comune di Vieti, al segno di Vieti per la difesa di questo spazio fondamentale per la vita culturale di questa città e in controtendenza rispetto a quello che succede nel paese. Se è più facile trovare città dove i teatri vengono sostituiti da parcheggi o da supermercati, in questo caso è successo il contrario e questo va ricordato e valorizzato ulteriormente. Senza fare l'elenco di tutti gli spettacoli che chiaramente hanno... Non facciamo elenchi perché poi diventa pesante, però citiamone qualcuno perché comunque sono state tappe importanti. Citiamone qualcuno. Io vorrei dire che il primo anno, tanto per cominciare, avevamo iniziato una collaborazione con Amnesty International perché volevamo dire che questo teatro supportava lo sforzo contro i diritti umani e questo si è visto in una cosa particolare che fu la vera novità. Fra i vari spettacoli del primo anno, io ricordo La Locandiera, furono una serie di spettacoli che registrano il tutto esaurito. La Locandiera di Nancy Brilli, Oscura Immensità di Alessandro Gasman, poi venne Gabriele Lavia che doveva venire con Pirandello fece invece un diario di un pazzo che fu una cosa clamorosa perché una lezione d'attore assoluta vedi quest'uomo che insomma è tuttora un bell'uomo, uno dei grandi del teatro che si mette lì con una serie che con una serie parlando anche a voce un po' bassa tiene incatenato un teatro completamente gremito francamente fa impressione, un relier con la regia di Michele Placido che era molto particolare soprattutto nell'allestimento e poi ci fu il debutto di quella che fu la stagione off del teatro Flavio Vespasiano. La stagione off che è stata un po' una scommessa. È stata la grande novità? Secondo me sì, nel senso che si è portato qui tutto quel teatro che in genere fatica a uscire dai grandi centri. La risposta del pubblico è stata eccezionale, in particolare il secondo anno perché il primo anno cercammo di fare, infatti si chiamava Lavori in Corso e un po' di off, cioè si presero degli spettacoli che erano un po' al limite sul confine borderline e si portarono qui, cioè potevano essere sia per la stagione principale sia per una stagione più ristretta, con alcuni spettacoli decisamente off. Parlamo in quell'occasione, facemmo uno spettacolo, a parte la presenza di Emanuele Salce che è un caro amico che fece uno spettacolo molto bello in cui ricordava, tra tragedie e commedia, le vicende con Vittorio Gasman e Emanuele Salce cioè Luciano Salce, i suoi due papà li chiamava e abbiamo fatto poi, come ti posso dire, abbiamo fatto uno spettacolo sul G8, quindi su quello che successe a Genova nel G8, raccontato però da un carabiniere e da un manifestante quindi, come posso dire, dando voce alle due esigenze questo spettacolo e però abbiamo fatto anche uno spettacolo tratto da Ignazio Silone che lì mi vedeva anche interprete insieme a Fabio Bussotti, un grande del teatro italiano che adesso è in scena e era anche nella Locandiera con Nancy Brilli che era uscita di sicurezza di Silone, una sua drammaturgia trattata da Silone che parlava appunto del rapporto di un grande intellettuale italiano che poi è stato ostracizzato nell'uscita dal comunismo dopo che ha conosciuto gli orrori di Stalin per cui, voglio dire, avevamo cercato di dare e in questo si inseriva il discorso che poi si è intensificato l'anno dopo, il discorso del rapporto con Amnesty International infatti l'anno successivo, l'off, parlò essenzialmente di problematiche, quattro problematiche quattro spettacoli raggruppati nel mese di gennaio che parlavano di problematiche molto legate all'attualità cioè il problema della precarietà sul lavoro, il problema del rapporto, diciamo, della violenza sulle donne il tema del cambio di sessualità, il tema quindi della sessualità e quindi diciamo tutte problematiche, come posso dire, molto forti molto forti, me ne sto dimenticando uno che adesso viene, insomma comunque hai detto, il rapporto delle truffe bancarie, venne Bebo Storti con Fabrizio Coniglio che raccontarono e quella stagione off in particolare vide anche la presenza di Laura Lattuada di Bebo Storti appunto, di Luca De Bei, di Giulio Federico Ianni e Michele Vargi che parlavano appunto della precarietà quindi furono spettacoli fortemente connotati in un certo senso una connotazione però essenzialmente dell'occhio della società cioè quello che si è cercato di passare il terreno non deve veicolare un'idea deve veicolare le tante idee che sono nel croggiuolo della società quindi tu puoi presentare anche una cosa che forse non è in linea con quello che tu pensi in quel momento ma che ha una dignità artistica e una forza di linguaggio la forza che doveva essere la nostra proposta, che voleva essere questa proposta è quella che è un po' la direttiva, la direttrice del mio lavoro fatto anche con altre persone e che è quello di emozionare il pubblico fondamentalmente emozionare il pubblico non tanto stupire con effetti speciali o con un intellettualismo, con una ricerca ma un discorso valido sia drammaturgicamente sia a livello di regia e di interpretazione che sia capace di arrivare al cuore dello spettatore se tu riesci a emozionare lo spettatore a far uscire la lacrimuccia o la risata è lì che vinci, a prescindere se tu parli un linguaggio astruso se presenti una drammaturgia oppure se semplicemente fai vedere una luce che taglia il buio del palcoscenico questa è un po' la nostra cosa il secondo anno registrò quelli che sono state le più importanti come posso dire, le cose più innovative forse il Circus Kleismar che in collaborazione appunto con la TCL fu questo circo yiddish praticamente che circo però non è la parola adatta perché era questa forma di spettacolo comico parlavano in yiddish gli attori ma si capiva perfettamente perché usavano un linguaggio del corpo una comicità che ricorda molto quella dei fratelli Marx per esempio al cinema o anche di alcuni comici prettamente di matrice ebraica quindi molto legati a una clownerie particolare con la musica, con le musiche che mandò in delirio il pubblico fu l'unica data nel Lazio e credo una delle pochissime in Italia se non anche l'unica e poi il Riccardo III di Alessandro Gasman che era già venuto l'anno prima con Oscura Immensità avendo come interprete, come regista avendo come interprete Giulio Scarpati e qui si presentava come attore, regista e qui è stato, insomma, il culmine anche quello poi faccio un passo indietro di quello che era stato il nostro intendimento cioè l'incontro con Amnesty International ma anche e soprattutto la sensibilizzazione delle scuole mi ricordo che con l'assessore presentammo la stagione teatrale in anteprima ai professori perché li volevamo proprio coinvolgere in un discorso di inserire nei programmi queste cose che noi presentavamo cioè che c'era un repertorio che poteva essere inserito se ne poteva discutere anche in classe e con Diego Di Paolo facemmo proprio il tour delle scuole siamo andati in alcune scuole parlando lì con la busta con i programmi di sala e fu una cosa molto emozionante perché proprio da pionieri, come posso dire e furono accolti benissimo sia dai professori che dagli studenti che poi sono venuti in massa vennero in massa a sentire ovviamente Alessandro Gasman che lo voglio ringraziare pubblicamente perché è stato generosissimo nei nostri confronti nel senso che si è prestato a degli incontri con il pubblico già il primo anno il secondo anno fece una prova generale aperta per le scuole poi ci fu uno spettacolo prima dello spettacolo e un incontro con il pubblico nel foie del teatro perché la capienza era solo quella che poteva ospitare tutta la gente che veniva a sentirlo e poi un Riccardo Terzo francamente molto gasmaniano nel senso di Alessandro perché era un Riccardo Terzo lo ricorderanno tutti molto fumettistico cioè nell'impronta dei personaggi ci sono anche delle belle foto dei ricordi, immagini e in quel Riccardo Terzo in questo immaginario alla Tim Burton che è un immaginario forte che ha permesso di rendere quotidianamente cioè questo racconto sul potere con questo linguaggio quasi cinematografico fumettistico Alessandro ha avuto la capacità di avvicinare dei giovanissimi ai, come posso dire ai deliri del potere ambientati nel 400 scritti da un signore che si è mosso fra 500 e 600 rendendoli attualissimi e comprensibili e anche questa è una sfida vinta come posso dire e quello spettacolo poi lo ricordo anche perché sul palco di quello spettacolo c'era un caro amico Manrico Gammarota che non è più con noi purtroppo che però mi piace ricordarlo perché in quella cosa diede un'interpretazione straordinaria con un'intensità che gli apparteneva umana e sulla scena e insomma abbracciarlo in quell'occasione salutarlo, vederlo, recitare è uno dei ho recitato a fianco a lui più occasioni però quella lì devo dire anzi un paio con la regia di Alessandro però in quell'occasione vederlo in scena non averlo vicino però vederlo recitare è un bel ricordo che mi porto dentro insomma umanamente e artisticamente quindi voglio dire anche questo fa anche questa è la vita assolutamente ricordi che cosa è rimasto a te di questi tre anni di esperienza oltre ai tanti ricordi e chiaramente alle esperienze che hai acquisito sono rimasti dei begli incontri non so mi è rimasto cioè vedere vedere quest'ultimo anno l'anno passato da attore lo dico vedere Gianrico Tedeschi 94 anni che fa uno spettacolo sulla vecchiaia recitando recitando l'anziano e che sta in scena un'ora e mezza senza senza nessun aiuto senza nessun tipo di cose e recita recita una cosa di un autore moderno questo rapporto con le generazioni mettendo in scena proprio anche alcuni aspetti poco carini della vecchiaia è stato veramente un'emozione e vederlo poi in camerino che esce tranquillo saluta se ne va c'è speranza e poi vedere a un certo punto Giorgio Albertazzi un'altra figura che abbiamo ospitato qui insomma al Flavio Vispasiano che arriva con un fortissimo raffreddore esce dall'albergo lo vado a prendere con la macchina esce coperto da cose che dice oddio non so se ce la faccio a recitare così mi distraggo un attimo teatro strapieno e poi quando arrivo che lo spettacolo è iniziato in suo momento entra in scena entra in scena una specie di grillo con un bastone insomma poteva anche lanciarlo e che poi siamo rimasti a cena a parlare fino alle 4 di mattina in cui mi ha raccontato i suoi episodi parlava più dei suoi ricordi di guerra che non di teatro io cercavo di dire sì ma Visconti sì vabbè Visconti però quella volta quando ci fu la ritirata le cose quindi questi ricordi qui sono quelli che la vita teatrale l'ho fatta stavolta da stanziale in un certo senso è bella perché questo ti porta ti porta a una come posso dire vivi e vedi da vicino delle cose che normalmente non ti capiterebbe di vedere prima di tutto questi grandi incontri e poi questi grandi incontri in una situazione di intimità perché o ci lavori insieme oppure se sei in compagnia lavori per sei mesi strettamente come se fosse con la tua famiglia con persone che poi perdi di vista ma poi ne trovi altri e vivi questi momenti impareggiabili che sono i momenti del dietro le quinte l'emozione prima di andare in scena l'emozione appunto di una cena dove si si dà la stura ai racconti questi sono momenti veramente che ti rimangono dentro insomma questo è molto bello questo è molto bello senti adesso invece sei impegnato in altri progetti che stai invece portando in giro non più stanziale ma decisamente itinerante no itinerante ma stanziale nel senso che la mia scommessa diciamo la mia scommessa il mio tentativo e ci siamo riusciti pienamente con alcuni spettacoli era quello di inserire un po' il terro Flavio Vespasiano nel circuito da una parte delle grandi compagnie nei grandi circuiti teatrali perché ospiti degli spettacoli che poi vanno in giro dall'altra parte con l'off farlo diventare un punto attrattivo per delle compagnie che normalmente vengono dalle grandi città Napoli Roma Milano Torino insomma e hanno il modo di muoversi e vengono un po' a casa tua dall'altra parte mi faceva piacere creare un gruppo di lavoro che potesse essere un gruppo di lavoro poi spendibile non tanto a Rieti cioè che Rieti fosse il punto dove sperimentare delle cose e poi portarle fuori questo è successo nel senso che si è creato un gruppo di lavoro con la collaborazione con l'Artem che voglio qui ricordare con la collaborazione con tanti altri professionisti qui dello spettacolo di persone che fanno spettacolo voglio ricordare Fabio Carosi voglio ricordare Martina Biscetti che mi ha fatto da aiuto regista in due spettacoli che abbiamo preparato qui che poi sono andati fuori stanno andando fuori e che adesso è stata protagonista di un musical a Milano al Teatro Nazionale con la regia di Chiara Noschese e quindi voglio dire creare un gruppo di lavoro che poi metta in scena delle cose che poi le porti fuori e per questi due spettacoli abbiamo appunto il parrocinio del comune di Rieti e ci è piaciuto portare fuori e ci piacerà portare fuori il nome di Rieti in Italia insomma fin dove ci porta ci porta la pompa diciamo fin dove arriviamo e questo è stato molto bello è successo con uno spettacolo che si chiamava Quasi una canzone d'amore che mi vedeva in scena con Laura Lattuada e con i musicisti dell'Artem con Lucia Casagrande Raffi e qui a Rieti con Alessandro Nisio e poi dopo con Come il nero negli scacchi che è una cosa che stiamo invece portando fuori in questo momento che è una cosa a cui tengo particolarmente e oltre a Martino e Fabio questo insomma splendido viaggio comunque viaggio della mente insomma fanno parte di questo team di questo gruppo di lavoro Valentina Brunelli per l'ufficio stampa Raffaella Marinetti per l'organizzazione siamo accompagnati dalle foto di scena di Filippo Maria Gianfelice e poi con Andrea Paolotti e Federico Micheli che si sono occupati di produzione e produzione esecutiva e poi l'immancabile direi quasi inevitabile gigantesca figura dell'avvocato Claudio Trinchi per il fundraising e poi la preziosissima consulenza perché si parliamo anche di una materia molto specifica in questo spettacolo di la dottoressa Valeria Natali che si sta occupando anche di questo progetto per quanto riguarda un progetto parallelo che poi forse un giorno ne parleremo questo è il gruppo che insomma Fabio Carosi già nominato con la sua studio evento coordina però voglio dire anche un'altra cosa il film quello di cui parliamo tornando a bomba nel frattempo ambientato a Rieti che fa vedere Rieti prima dei lavori della piazza quindi la fa vedere come era prima è stato poi acquisito da Vimeo per gli USA quindi è in America adesso Rieti la città di Rieti il pubblico americano che queste cose se ne intende cioè si va a vedere anche film non ufficiali non solo in mainstream in sala si vede si vede Rieti e questo mi fa tanto piacere Amazon e Vimeo hanno comprato il film e quindi insomma siamo contenti progetti per il futuro a questo punto progetti per il futuro io adesso francamente devo dire che la cosa che più mi piace è dedicarmi a Come il Nero negli Scacchi perché è una cosa a cui tengo moltissimo da un punto di vista personale l'abbiamo sperimentato qui a Rieti funziona moltissimo insomma il pubblico che lo ha visto arriva quel tipo di emozione di cui parlavo prima quindi adesso siamo impegnati nella chiusura di una tournée di questo spettacolo per portarlo poi in giro e insomma vediamo che succede cioè poi dopo parte e va per conto suo già il testo mi sembra una cosa scritta da un altro in genere in queste cose succede così poi lo spettacolo succederà insomma che prenderà la sua piega vediamo che cosa succede insomma crescerà e andrà con le sue gambe sì spero di sì le gambe sono le sue però dopo diciamo come fosse la fatica è la via perché lo recito lo interpreto quindi su questo mi sto dedicando poi ci sono altre cose voglio dire progetti film di cose che si dovrebbero fare web series cose di questo genere che però insomma intanto voglio dire questa è la cosa a cui più sono legato in questo momento chiudiamo con una cartolina che illustri un po' il ricordo principe di queste stagioni sì il ricordo principe non voglio togliere dagli altri insomma voglio dire però c'è un momento in cui soprattutto allora qui c'è la leggenda metropolitana che la città non risponde non risponde a nulla è una città morfa io non sono d'accordo perché mi sono trovato implicato in alcune cose che di cui ho anche parlato ho raccontato in cui la città si è molto mossa molto movimentata un movimento dal basso con interesse con probabilmente cambia anche l'approccio al fenomeno artistico cioè si prende meno il pacchetto si va più a scegliere il singolo evento per quanto riguarda il teatro e per quanto riguarda altre cose c'è molto spesso una partecipazione una curiosità perché io lo dico sempre lo voglio dire anche in questa sede questa è una città che ama molto essere raccontata e raccontarsi quindi quando vede persone che raccontano la raccontano è contenta per contro ci sono dei momenti che ti porto dentro dove questa partecipazione è una partecipazione di pubblico che si sceglie una cosa vuoi per il richiamo del grande attore vuoi per la drammaturgia vuoi per quello che sia e va si muove e va e c'è un ricordo molto bello che è proprio legato al Riccardo Terzo di Alessandro Gasman che è proprio questa grande partecipazione perché ricordo una serata in cui quando cominciò lo spettacolo per me fu una liberazione perché continua a telefonare i posti dove si trovano dove si prendono e c'era un teatro gremito fino veramente cioè oltre quello dovevano sfollarlo cioè perché era una cosa proprio terrificante con un pubblico che rimase poi in delirio e di questo conservo cioè come al solito il souvenir alla cosa qui è che eccola qua grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.